Ho ordinato questo libro qua di Pietro Udolfe e Noel Kingsbury, perché è esattamente lo stile che mi piace di giardino, di piante. Lui fa dei progetti stupendi, veramente. Vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa. Ce n'era uno stupendo. Eccolo. Bellissimo questo qua. Sembra tutto molto naturale. Grazie per la visione. Grazie per la visione.